Ultima provincia in Italia per produttività del lavoro e la fotografia consegnata per il territorio ibleo da un apposito studio della CGA di Mestre sul tema. Tra i dati più interessanti, prima di tornare ai nostri lidi, spicca la produzione in Italia per dare un'idea della mole degli interventi di 6 miliardi di PIL al giorno. Tornando a Ragusa, male, anzi malissimo. Un valore aggiunto volgarmente PIL che per il territorio ibleo ammonta complessivamente a 6,2 miliardi di euro. Per dare un'idea delle proporzioni, Milano che guida la classifica è a 204,4 miliardi. Sono 123 mila le unità di lavoro standard con una produttività annua per ULA di 50 mila euro, nettamente la più bassa tra le province italiane. La penultima benevente avanti infatti ad esempio di 3 mila euro. E la prima, Milano, praticamente doppia Ragusa con 103 mila unità di lavoro euro annue. Ancora peggio la produttività per unità di lavoro, 138,5, meno della metà della prima in classifica e ben lontano anche dalla penultima. Insomma una debacle forse inaspettata ma che deve preoccupare e molto in prospettiva.